oggi vi faccio vedere come si smonta l'interruttore luci allora posizione zero si spinge in avanti ok si spinge si porta alla alla posizione di luci di posizione e si tira avanti eccolo qua e dopo ci sono i vari componenti fate attenzione a questi qua perché sono molto molto delicati si rompono dopo sono aziamari per metterlo dentro sempre la stessa posizione spingete da posto ok prossimo video ciao ciao